Globalizzazione, pandemia e conseguente crisi dei mercati hanno portato le aziende a concentrare il proprio focus su innovazione e riduzione dei prezzi. Le aziende più competitive hanno mantenuto i fatturati delegando servizi non specifici a specialisti del settore risparmio, concentrando tempo e competenze sul miglioramento del proprio business. Compagnia del risparmio è al fianco delle aziende italiane fornendo un servizio di verifica globale dei costi, condotto con la logica dei broker e tramite specialisti di settore di comprovata e decennale esperienza. Bandi europei, risparmio sui costi del personale, telecomunicazioni, noleggi auto ed attrezzature, finanziamenti e ristrutturazione del debito, ottimizzazioni energetiche ed assicurative e tanti altri servizi in continua crescita rientrano già nelle competenze della squadra di Compagnia del Risparmio. Richiedi il nostro check-up servizi. Eviterai di perdere tempo a ricevere più rappresentanti per confrontare le loro proposte, evitando così scelte sbagliate. Compagnia del risparmio. Quando il risparmio si fa chiaro. Contattaci agli indirizzi mail che trovi sul sito www.compagnialelrisparmio.com Bene, hai visto il nostro video. Ci tengo particolarmente perché ho fondato Compagnia del Risparmio proprio per dare al maggior numero di collaboratori commerciali opportunità in più. E in effetti i nostri commerciali guadagnano mediamente almeno il 50% in più dei loro colleghi perché hanno molte più opportunità a disposizione e quando entrano in un'azienda presentandosi e presentando al meglio l'opportunità di Compagnia del Risparmio ottengono già delle richieste di servizi. Quindi trasformano sostanzialmente un mercato di offerta in un mercato di domanda, cosa che per un commerciale è veramente molto molto piacevole. Bene, adesso ci occupiamo di American Express e Obex che sono due partner all'interno della piattaforma di Compagnia del Risparmio e soprattutto analizzeremo l'opportunità di guadagno che stavi aspettando. Quindi parliamo di sicuramente un'opportunità importantissima, direi unica, per vari motivi. Allora intanto perché il mercato è libero, quindi senza concorrenza ed è interessato. La proposta è facile e veloce da rappresentare, le provisioni sono molto alte in relazione anche al tempo investito, c'è una possibilità di carriera manageriale per chi è diciamo un organizzatore e sicuramente si aprono nuovi mercati per attività di cross-selling su quelle che sono diciamo proprie attività primarie da affiancare al discorso di American Express e di Obex. Intanto vediamo qual è il mercato di riferimento e vediamo di parlarne. Il mercato di riferimento è quello delle transazioni su post fisico che in Italia sono aumentate terribilmente. Gli italiani pure hanno imparato ad utilizzare le carte di credito e per di più un po' perché lo Stato vuole cominciare ad evitare i pagamenti in contanti per chiaramente un controllo fiscale, un po' per altri motivi stanno calando drasticamente i pagamenti in contanti. Quindi è un mercato veramente in forte crescita. Quindi il new business del futuro sta proprio nei sistemi di pagamento perché cresceranno fino a coprire il 100% delle transazioni e degli acquisti. Adesso vediamo il mercato di American Express. Bene, allora il mercato di American Express come dicevo è molto largo perché l'80% degli esercizi commerciali in Italia non è ancora convenzionato, quindi non ha la possibilità di accogliere la carta di un cliente, la carta American Express di un cliente che vada a fare un acquisto. Quindi diciamo anche che sta perdendosi dei clienti. E quindi noi abbiamo la possibilità di introdurre l'esercizio commerciale all'interno del circuito American Express e fargli avere qualche cliente in più, se non tanti clienti in più. Come? Una proposta stupenda perché la proposta è ti faccio entrare gratuitamente e per di più, non solo ti faccio entrare gratuitamente, quindi avrai la possibilità sul tuo post di accogliere anche la carta American Express, ma le commissioni sono veramente interessanti perché fino ai primi 3.000 euro all'anno avrai lo 0% di commissioni, quindi non paghi niente. Dai 3.000 fino ai 50.000 euro di transato American Express avrai una commissione che nella maggior parte dei casi è più bassa di quella che l'esercente paga per Visa e Mastercard, che è 0,90%. Quindi abbiamo due buone notizie da portare nell'arco di 5 minuti in cui parliamo con il cliente, e cioè te lo do gratis e ti do commissioni all'inizio gratis e anche dopo sono commissioni molto molto interessanti. Per tutto questo, che vuol dire in sostanza 5 minuti, 10 minuti di dialogo con l'esercizio commerciale, vediamo quali sono i guadagni. I guadagni sono visti per soglie, per fasce, quindi da 0 a 29 contratti mensili, ci sono 28 euro a contratto, poi andando oltre 34 e superati 50 abbiamo anche un bonus mensile che viene dato alla gente. Però ci sono anche delle gare. Allora, c'è ad esempio una gara su 7 province, Roma, Napoli, Salerno, Firenze, Venezia, Milano, Monza, Brianza, che aumenta quelle commissioni. E di quanto l'aumenta? Molto semplicemente di 20, 30, 35, 40 e arriva fino a 45 euro di aumento se la produzione mensile supera i 60 inserimenti di convenzionamento. Ma esiste anche un canvas per alcune regioni. Poi sono canvas che cambiano, è mensilmente, però possono anche mantenersi, magari ci possono essere delle regioni in più che entrano in questa gratificazione. Al momento abbiamo Puglia, Calabria, Basilicata e Abruzzo, quindi il commerciale che ha la fortuna di abitare in queste zone qui può avere un bonus al raggiungimento di almeno 30 inserimenti mensili, un bonus di 15 euro su ogni inserimento che ha fatto. Adesso, finito di parlare di American Express, è chiaro che abbiamo anche Obex e Obex è una seconda opportunità molto importante. Per quale motivo? Obex è un operatore austriaco e ci ha dato la possibilità di dare agli esercizi commerciali le più basse commissioni sul transato di Visa e Mastercard. Quindi basterà dire all'eserciente commerciale, dire bene, adesso che hai recuperato il mercato grazie al convenzionamento American Express, vogliamo risolvere anche il discorso di Visa e Mastercard? Bene, prendi l'estratto conto del tuo post e andiamo a vedere quanto stai pagando. Bene, con noi pagherà le più basse commissioni. Sulle carte di credito 0,65% più 0,05% o 0,10% a seconda del tipo di attività e sui bancomatte 0,45% più sempre uno 0,05% o 0,10% a seconda delle attività. Beh, ti posso garantire che questi tassi sono veramente molto, molto bassi e concorrenziali e quando si farà un confronto con la situazione attuale del cliente lui capirà da solo che in buona sostanza ha la possibilità di avere un risparmio sul transato anno molto importante. Qui ci sono chiaramente commissioni importanti anche in questo caso. Il cliente, diciamo, che può essere differenziato in funzione dell'attività e in funzione dell'attività la provvigione va dai 60 euro agli 80 ai 100 euro a post. Abbiamo anche Samap, quindi il cliente che poi vuole un post che possa, diciamo, non essere collegato al filo o alla rete ma andare con la SIM che noi forniamo per evitare magari che in un giorno in cui non funziona la rete lui possa perdere, diciamo, i pagamenti ebbene, gli diamo Samap. Samap ha delle commissioni un pochino più alte però è sicuramente una soluzione a quel problema. Bene, anche qui, a seconda del tipo di apparato che andiamo a dare di offerta abbiamo praticamente da 50 a 60 euro di provvigioni per ogni Samap venduto. Bene, a questo punto andiamo a vedere quanto può guadagnare un commerciale che decida di abbracciare la vendita di American Express e di Obex e eventualmente Samap. Chiaramente stiamo parlando di un commerciale che ha delle enormi possibilità durante la giornata di chiusura perché ogni incontro che fa può durare veramente molto poco 5-10 minuti se dura un po' di più è perché il negoziante è interessato e quindi vuol dire che si va verso la chiusura. Qui ci sono tre specchietti per chi lavora in regioni che non sono a gara per chi lavora e può andare a lavorare se no nelle sette grandi province che sono a gara e chi vive se no in regioni dove c'è quelle quattro regioni dove ci sono delle gare. Dunque, parliamo di una gente che chiude tre contratti al giorno si possono chiudere tranquillamente? Secondo me se ne possono chiudere anche di più però diciamo che ne chiude di media tre al giorno e diciamo converte il 50% dei post che trova in OBEX quindi fa 60 attivazioni American Express in un mese 61 e converte il 50% di questi quindi diciamo che chiude 30 post OBEX. Beh, allora il minimo che guadagna sono 4.724 euro nelle regioni che non sono a gara nelle regioni che sono a gara ne guadagna 5.639 e nelle sette grandi province addirittura guadagna 7.500 euro quasi 7.469 euro che sono veramente un guadagno enorme per un'attività che ripeto molto easy molto facile da portare avanti. adesso vediamo la crescita professionale perché c'è anche quella infatti c'è la possibilità per chi è diciamo un pochino più avvezzo ad organizzare la possibilità di praticamente scalare delle posizioni quindi da sales a team manager ad area manager ogni crescita prevede un over maggiorato su quella che è la propria rete quindi anche qui c'è una crescita economica in più ed infine possiamo dire anche questo la possibilità di entrare così facilmente nelle attività commerciali e di chiudere un rapporto con un contratto quindi di farsi conoscere è una grande opportunità per chi ha come ogni plurimandatario nella borsa anche l'energia la telefonia le assicurazioni o qualsiasi altra cosa perché si è fatto conoscere e quindi ha la possibilità di anche di presentarsi per altri servizi quindi il commerciale che si occupa di American Espes e di Obex in realtà apre anche nuovi mercati da poter lavorare in cross-air direi che le cinque condizioni per cui avevo detto che questa era una grandissima opportunità da non perdersi sono assolutamente rispettate quindi abbiamo un grande mercato aperto e interessato abbiamo una trattativa facile abbiamo delle provisioni molto alte per quello che andiamo a fare abbiamo una crescita manageriale e abbiamo la possibilità di aprire nuovi mercati per i nostri business cosa c'è di più di un'opportunità come questa per un commerciale direi poco o nulla di un'opportunità come questa